Consigliere Alessandrini, quali sono secondo voi le criticità che riguardano il progetto della Regge regionale 135 del 2020? Sono tante, troppe. Un disegno di legge decisamente pasticciato, che potremmo definire addirittura volgare, che elimina alcuni diritti ormai che fanno parte, diritti addirittura sanciti all'interno di regolamentazioni nazionali, quindi ad esempio la legge generale, la legge quadro dell'urbanistica nazionale, la 1150, ci sono tutta una serie di modifiche che vengono proposte che eliminano le varianti ai piani regolatori, giustificano cambi di destinazione d'uso anche in deroga agli strumenti, quindi sostanzialmente scippano dalle mani delle amministrazioni locali la possibilità di gestire e controllare i territori, tra l'altro anche con delle perdite forti di finanziamenti, quindi di somme, che vengono erogate dai privati o dalle richieste che vengono fatte per le modifiche di destinazione d'uso attraverso i contributi straordinari. Quindi si perde il controllo, si rende una deroga, la deroga diventa una regola, quindi una completa malgestione di tutti i territori, dei comuni all'interno della regione Abruzzo e con profili sicuramente di incostituzionalità che vedranno quindi poi sicuramente la legge impugnata a livello nazionale. A questa legge 135 a voi non piace, avete rilevato delle criticità, a quali in particolare e perché? Allora questa legge regionale è stata presentata come una legge che dovrebbe andare a semplificare la materia urbanistica, ma secondo noi ci sono delle evidenze che invece di semplificare ci saranno delle deregolamentazioni alla materia. In particolare si tolglie la possibilità agli enti interessati, anche cittadini, di presentare delle osservazioni. Soprattutto si riducono in maniera drastica i tempi con cui i comuni devono adempiere a certe pratiche amministrative. Questa per noi non è semplificazione, ma comporta il fatto che i comuni si sentano schiacciati sotto decisioni che magari vengono prese dalla regione, in un momento in cui i comuni, soprattutto quelli piccoli, sono in particolare affanno.